l'auditel è quel sistema per il quale uno viene a sapere se una trasmissione di alto gradimento di poco gradimento ma è della favola che questo auditel l'hanno sospeso perché c'era come al solito qualche cosa che non funzionava ma a dire la verità l'auditel alla tamaninile è un altro auditel perché io ascolto il popolo i miei amici del popolo e allora qualche volta mi viene la voglia di domandare scusi tu hai guardato per l'amor di mio dottor lei guarda ancora di martedino e ballarò maniaca parlarne e la gabbia ma cosa che guarda la gabbia che giorno dopo che prima pagina che io uguali e santoro oggi per fortuna che non che pulis perché non vedo più ma è porta a porta ma cosa vuole il dottor e tutti quanti guardate quasi tutti da un po di tempo in qua non guardano queste trasmissioni mentre prima avevo possibilità di dialogo cosa ne pensa di quel cadito il tizio cosa ne pensa di credito c'è una diminuzione di ascolto secondo il mio parere anche perché queste trasmissioni posso dopo si parlano addosso non so come se il termine corretto parla uno è quell'altro lo interrompe per cui non si capisce si sbagottano è falso non dici il vero ma quello non sei informato ma come ci non hai letto la costituzione una menata che non la finisce più e poi la gente e stufa di vedere sempre le solite persone la santanchè me sono segnati salvini landini fascina civati cuperlo bersani lameloni non c'è una volta che ci sia qualcosa che va bene io dire la verità da un po di tempo non le guardo più perché non è possibile che queste trasmissioni siano impostate solo ed esclusivamente su quello che non va Renzi lo fa passare come un cretino i vignettisti in putelotti che una cosa crossa se mette addirittura lì lo fa un imbecille boh non parliamo report mai una volta che abbia sentito una trasmissione dicono la tal medico ha fatto la tal cosa è stato proprio bravo la tale azienda ha prodotto il tal prodotto lo sta esportando all'estero è veramente un'azienda all'avanguardia perché in italia all'avanguardia non c'è niente tutto è negativo ecco Renzi in questo ha toccato un tasto molto nuovo perché cercato di portare nelle persone un po di buon umore non so dire un po di felicità o delle speranze ma possibile che vada tutto tutto male oltre che è quell'altro filo diretto mi pare che sia filo diretto anche quello aspetta che mi sono segnati ecco di martedì fabris anche a quel regolarmente vanno a pescare sempre la persona che viene e parla male ma ci sarà anche qualcuno che può andare ma perché non vanno per la strada invece che andare a prendere questi soliti nomi che oramai come aprono la bocca sappiamo già cosa dicono perché non vanno per strada e prendono un cittadino scusi lei vuoi venire con me le dispiace senza intervento e poi vanno a intervistare magari delle persone che esprimono un pecero quello che è favorevole non viene trasmesso fanno le interviste e le interviste generalmente è tutta gente incazzata e contraria ecco perché non vanno a fare delle interviste che possono essere costruttive io credo che l'auditel andrebbe fatto in un'altra maniera intervistando le persone per la strada e sentire cosa dice il popolo cosa vuole il popolo perché i nostri politici anziché giuro ma se qualche volta facessero qualche bella interrogazione per sapere come mai si fa quella trasmissione cosa costa quella trasmissione come mai pagate quel regista soldi che sono addirittura fuori di cervello quando che la pensionata a 600 euro al mese che non ce la fa arrivare a fine mese e tengono in piedi delle trasmissioni che costano una barca di soldi e oggi non sono più guardate grazie alla prossima volta